buongiorno a tutti eccoci qui per la seconda pillola di questi brevi incontri che ho deciso di registrare per raccontarvi un po di me un po della mia vita ma soprattutto ovviamente della mia attività nel mondo della musica oggi voglio allargarmi un po e quindi non vi parlerò solo di musica ma vi parlerò anche di due altre mie grandi passioni che sono da una parte la fotografia e dall'altra gli stati uniti d'america già gli stati uniti d'america chi un po mi conosce sa bene quanto io ami quel quello spazio quel mondo quella realtà e al punto da ritenerla la mia seconda patria per molti versi in particolare oggi vi voglio parlare però di un luogo un luogo che addirittura filosoficamente parlando potremmo definire non luogo ovvero new york city questa questa città incredibile il cui diciamo massimo cantore riconosciuto che reputo sia billy joel ha ben definito in una sua canzone con una definizione che è state of mind ecco new york è sicuramente estate of mind è qualcosa che è collocata nell'immaginario di tutti proprio a livello universale io credo e nel momento in cui vai lì ti rendi conto che questo immaginario diventa immediatamente realtà è un luogo non luogo quindi è un luogo dove accade tutto è il contrario di tutto addirittura secondo me nemmeno si potrebbe definire il simbolo degli stati uniti d'america new york e new york e basta questa lunga premessa per raccontarvi la mia prima avventura professionale in quel posto correva l'anno 1999 dicono quelli bravi in particolare l'estate quando mentre io stavo registrando credo un disco barocco dalle parti di san sepolcro a metà luglio mi telefona gian andrea lodovici gian andrea lodovici grande amico grande professionista forse il più grande produttore nell'ambito della musica classica dei nostri anni che purtroppo ci ha lasciati prematuramente e giovanissimo nel 2007 e insomma mi chiama gian andrea per dirmi cosa fai ai primi di agosto io dico boh non lo so andrò al mare no cancella ogni eventuale impegno perché il 2 agosto partiamo per new york come mai a fare che no sai olaf pils patron dell'etichetta tedesca arts all'epoca mi ha incaricato di registrare un disco molto bello di spirit walls alla north presbyterian church di harlem e una cantata inedita un progetto incredibile assolutamente deve essere realizzato in alta risoluzione a 24 bit 96 e quindi ci imbarchiamo andiamo a new york dico ma scusa ma a new york non c'è nessuno che può registrare a 24 96 fa sì ci sono due studi ma in quel periodo sono impegnati dovete sapere che quelli erano i primissimi anni in cui si registrava ad alta risoluzione e io ero uno dei pochi tecnici nel pianeta ad avere a disposizione le macchine e anche il know how per lavorare in in quell'ambito assolutamente nuovo ecco quindi che un po mista ovviamente la fiducia che la arts riponeva in me come tecnico la contingenza che new york non c'erano non erano disponibili tecnici per registrare in quello standard e da lì nasce l'avventura bene adesso vi tralascio un po i dettagli però anche no nel senso che nel 1999 non solo eravamo lontani dai tristi giorni del virus di oggi ma eravamo anche prima del famigerato 11 settembre e vi garantisco che prima dell'11 settembre 2001 muoversi nel mondo il rapporto fra fra i viaggiatori era molto differente molto differente dalle ansie dai sospetti dalle paure da tutto quello che ci affligge da quella fatidica data in poi io ricordo che ci imbarcammo in un volo panam credo che fosse a no no era un volo che glm glm via via schipol via amsterdam con tutta l'attrezzatura a seguito cioè io avevo con me un ovviamente un bagaglio straordinario fuori peso fuori misura che quindi venne spedito anche con costi importanti però in stiva assieme a me e ricordo addirittura che avevo nella nella valigetta come bagaglio a mano i miei microfoni shapes che agli occhi di di un profano possono apparire come oggetti strani e sinistri insomma tutte cose che a fare oggi credo sia veramente fantascienza quando si viaggia fuori dalla dall'italia e nella fattispecie fuori dalla dalla oggi anche da famigerata comunità europea di cui facciamo parte bisogna e si viaggia per motivi professionali con la propria attrezzatura a seguito bisogna compilare un modulo internazionale che si chiama carneata dove viene descritto nel dettaglio ogni singolo pezzo che tu porti fuori dal tuo paese per svolgere il tuo lavoro bene ovviamente io feci altrettanto questo cosa significa che una volta sbarcati a new york oltre alla normale immigrazione c'era anche la necessità di passare la dogana la una dogana specifica ripeto a fare oggi queste cose mi vengono i brividi solo a pensarle all'epoca era tutto molto più come si dice take it easy fatta l'immigrazione alla velocità della luce carico i miei valigioni in un carrello mi indicano un ufficio dove c'era il classico agente un po così diciamo fra l'annoiato lo svagato tv accesa con la partita di baseball coca cola sul bancone insomma molto molto diciamo poco propenso a smontare il mio bagaglio professionale per verificare ogni singolo pezzo e mi ricordo infatti che alzò un occhio appena così da da sotto a sopra mi squadrò e mi disse how many items cioè quanti quanti pezzi a io dico guarda questi qui ok e firma sul carneata e via andare ripeto fantascienza nell'ottica del mondo in cui stiamo vivendo oggi bene a quel punto yellow cab flat tariffa flat all'epoca erano 45 dollari per qualunque diciamo zona del dei cinque distretti di new york city e e via subito erano le due del pomeriggio ora locale via subito alla north presbyterian church a darlem 134esima strada arriviamo un caldo allucinante cioè l'agosto di new york più torrido che si possa immaginare credo che si viaggiasse verso i 38 gradi con un tasso di umidità allucinante questa chiesa è in un quartiere residenziale di harlem è la zona sud di harlem che già all'epoca aveva una stava crescendo di valore e perdendo del della fama di quartiere ma così un po equivoco un po pericoloso diciamo così e ci fermiamo davanti a questa chiesa apparentemente non c'è nessuno noto una porticina a fianco del dello stabile principale che deduco a essere quella che noi chiameremo sacrestia e insomma mi avventura all'interno con gian andrea dietro di me nessuno faccio supero il primo androne busso porta aperta apparentemente nessuno in realtà subito a destra c'era un afroamericano gigantesco con due bicipiti che erano le dimensioni delle mie cosce sudato in t-shirts una bandana sulla 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 fronte che stava tirando delle clamorose martellate a un radiatore non chiedetemi perché bene io mi avvicino un po guardingo e chiedo subito excuse me i'm looking for reverendo leon davis leon davis questo si scosto un attimo sguardo cattivissimo si tira in piedi e vedo che è un po più alto di me considerate che io sono un metro e novanta oltre a essere grosso il doppio e mi fa it's me who are you capite che primo approccio è stato un attimo così a quel punto gli ho spiegato chi ero e insomma si è immediatamente sciolto ha capito che non era un invasore o uno che volesse fargli del male e da quel momento è diventato veramente un amicone e questo è stato il mio primo approccio con questa registrazione poi nel corso dei tre giorni di lavoro abbiamo avuto veramente un'esperienza incredibile con come vedrete adesso in in coda questa mia chiacchierata metterò delle foto questa regia allestita praticamente fra la sacristia e la sala principale della chiesa che chiesa naturalmente presbiteriana è tutto veramente una un'avventura roccambolesca ma estremamente affascinante ecco il disco che andammo a registrare questo disco che è tuttora bellissimo che poi uscì anche in in formato dvd dvd video con solo audio come si usava all'epoca quindi un 24 bit 96 kg rpcm lineare usando come supporto il supporto video senza immagini era veramente all'avventura e ripeto disco bellissimo tuttora disco bellissimo il gruppo che forse potete vedere qua dietro era un gruppo vocale sei solisti vocali più una ritmica di di tre di tre accompagnatori pianoforte percussioni il leader era françoise clement del vermont altro reverendo ospite insomma due giorni meravigliosi grande musica potrei raccontare ovviamente moltissimi episodi occorsi durante quel periodo però ecco ripeto momento momento che ricordo sempre con grande piacere e grande così nostalgia nostalgia ripeto soprattutto di un mondo che era un altro mondo l'11 settembre ci ha cambiati ha dato la prima botta poi è arrivata la crisi economica del 2008 adesso c'è il virus ecco questi tre elementi che io credo siano la chiave di lettura dei primi vent'anni degli anni 2000 sono quelli che temo ci abbiano cambiato per sempre la vita vedremo come non voglio essere né ottimista né pessimista ma certamente guardingo musica e dici ok no questo disco non ve lo faccio sentire perché per problemi di diritti se io lo montassi su questo video youtube mi oscurerebbe il video perché non possiede i diritti di questo disco e quindi però vi faccio sentire un brano da quest'altro meraviglioso disco che è il disco il l'ultimo disco in ordine di tempo realizzato con il grande guido marzolati il nostro bruce bruce springsteen italiano per il suo stile di rock molto molto vicino a quello del grande boss e c'è un brano in particolare che vi voglio far sentire che si intitola empty promises e di cui vi prego di ascoltare il testo perché credo che sia un testo che si così sposa benissimo con il mondo e il momento che stiamo vivendo questa musica sarà accompagnata da una serie di foto di new york e comincia ci sarà una prima slide dedicato appunto a questa registrazione fatta alla north presby tarian church e e poi una serie di foto in bianco e nero del tratto dal mio ultimo viaggio a new york nel 2016 a cui sono molto legato per molti motivi sia al viaggio che alle foto stesse e allora buona visione buon ascolto e arrivederci alla prossima pillola ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti